Reccoci insieme con Biancherosso TV Sport e con il sindaco Emiliano. Dunque la premessa è che insomma a un certo punto il sindaco è sembrato essere un po' centrale anche come bersaglio nella discussione intorno al Bari con gli striscioli che sono stati esposti al San Nicola domenica sabato scorso e con altri striscioli che vennero esposti qualche settimana fa. E qui evidentemente tu hai capito che c'era qualche meccanismo che non funzionava. Adesso non voglio fare paragoni impropri ma il sindaco è un po' come una madre. Spesso uno manda al diavolo sua madre non perché ce l'abbia proprio con lei ma perché ci sono una serie di cose che non si capiscono, non sono chiare e chiede un intervento autorevole perché queste cose si possano chiarire. Allora io l'ho presa così, nel senso che non posso pensare che i tifosi siano così sprovveduti da pensare che il sindaco sia in grado di esercitare una pressione tale sul venditore e sull'acquirente di una società di calcio da risolvere il problema con la bacchetta magica. Però è evidente che non avevano le informazioni che servivano a ragionare sui fatti anche perché nessuno gliele stava dando. Anzi c'era una dialettica anche molto brusca tra alcuni possibili acquirenti che su Facebook o in altri luoghi avevano esternato, la matarese che avevano minacciato quelli, insomma questioni molto complicate. Oggi noi dunque abbiamo cercato di reimpostare il ragionamento. Siamo partiti dalla dichiarazione della società di calcio che sostanzialmente diceva noi non abbiamo più il danaro per pagare gli stipendi, vogliamo vendere la società. Questa è una dichiarazione diciamo ufficiale agli atti. Dopodiché abbiamo riflettuto su cosa si potesse fare dopo una dichiarazione del genere e secondo noi ci sono due alternative. O i proprietari della società ricapitalizzano, pagano gli stipendi e vanno avanti ed eventualmente valutano la possibilità di vendere o non vendere la società con maggior calma e senza la pressione di un possibile stato di insolvenza. Oppure devono portare i libri in tribunale e chiedere l'autofallimento in modo tale che sia chi vuole speculare vendendo, sia chi volesse speculare acquistando trova un punto di equilibrio nel giudice fallimentare, nel curatore che fissa il prezzo e che attraverso un'asta pubblica che serve poi a soddisfare i creditori della società e soprattutto a fare in modo che chi compra non abbia il dubbio, come posso dire, della sopravvenienza di debiti occulti o non chiariti perché chi compra dalla curatela fallimentare compra in maniera nitida. Fuori da questa alternativa io non vedo altri mezzi, anche perché questa procedura dell'autofallimento, se deve essere questa la scelta, deve essere azionata dal mio punto di vista immediatamente perché se l'autofallimento e il fallimento interviene durante il campionato c'è la possibilità di non perdere il titolo sportivo e di attuare l'operazione di cessione della squadra ad altro soggetto senza la retrocessione, se viceversa questa operazione dovesse avvenire a campionato finito o in altre condizioni sarebbe troppo tardi e questo meccanismo non può essere azionato. Fermati un attimo, anzi si fermi sindaco perché do del tu, ma faccio molta fatica a darti del tu. Diciamo la verità ai tre spettatori, io ed Enzo ci siamo sempre dati del tu. C'è un amico, anche qui siamo in San Pasquale, tutti e due, vabbè, c'è un amico in linea, pronto? Buonasera a tutti, Enzo, sono Alessandro e chiamo da Treviso. Ciao, Alessandro da Treviso. Mi sostituisco a te se me lo consenti dicendoti una cosa che inviterei più spesso Emiliano in trasmissione perché è un punto molto, ma molto interessante in questa vicenda. Faccio una premessa, non sono un elettore di Emiliano e questo è un punto anche molto importante su quello che dirò. Io dico soltanto una cosa, Emiliano non è più candidabile, quindi diciamo che ha più disinteresse che interesse in questa vicenda e questo è sull'occhio di tutti e lo dobbiamo ammettere, baresi ceci più che altro, perché c'è molta cecità in questo. Emiliano ritengo che sta facendo l'interesse non del Bari, ma di Bari ed è una cosa molto importante, quella di dire la verità sulle cose. In secondo punto io chiedo ai tifosi diciamo molto più lungimiranti nel comprendere che il fatto di mettersi a fare un'OPA sul Bari e quindi raccogliere, fare dei soldi, raccogliere dei fondi è semplicemente fare lo stesso gioco di Mattarese, i Mattarese sono delle persone molto abili nel fare economia e quindi sarebbe quello che loro vogliono, che qualcuno finanzi praticamente la loro uscita perché loro stanno vendendo una 500 al prezzo di una Ferrari. Noi non dobbiamo fare altro che disinteressarci a questo, fare semplicemente i tifosi ed aspettare che ci sia un fallimento, una procedura di qualsiasi altra cosa e dedicarci semplicemente a limitare a sostenere il nuovo imprenditore che verrà e prenderà il Bari. Grazie per questo tuo intervento molto articolato, vorrei dare anche spazio ad altre telefonate. Devo dire che in quest'ottica, in conferenza stampa, il sindaco ci ha dato una notizia praticamente, c'è di essere in possesso di una carta. No, io ieri sera ho avuto la situazione patrimoniale del Bari secondo la versione del Bari ovviamente, è un documento dalla quale alcuni elementi sono ricavabili, io non ho desiderio di rendere pubblici questi dati, il Bari potrà farlo se lo riterrà, però ho considerato questo gesto come un gesto importante, nel senso che è un modo per cercare anche di evitare che le voci che si rincorrono sull'entità dei debiti, sul tipo di debiti, se sono debiti per stipendi dei giocatori, se sono debiti nei confronti dello Stato per IVA non versata, se sono debiti di altra natura, insomma tutti questi elementi sono stati forniti. Se il Bari dovesse fare la stessa cosa per tutta la città in una apposita conferenza stampa con i suoi commercialisti, i suoi revisioni dei conti, io credo che questo sarebbe un ulteriore contributo di serenità e di chiarezza e poi ovviamente dovranno anche annunciare cosa fare, se come io mi auguro decideranno di pagare gli stipendi e quindi evitare la penalizzazione, prima lo annunciano meglio è, perché è evidente che ci sarebbe tensione in meno da dover sopportare, se hanno altre idee, ugualmente lo facciano, ovviamente il sindaco assiste, come ho già detto, dall'esterno con grande attenzione, con grande cura, ma dall'esterno, in questa vicenda, credo che questo telespettatore che è chiamato da Treviso l'abbia presa in pieno, io ho solo da rischiare nell'interessarmi di questa vicenda, nel senso che non c'è nessuna ragione per apparire come un politico che si occupa del Bari, perché occuparsi del Bari di una squadra di calcio in questo momento è qualcosa che può anche persino innervosire gli italiani che non abbiano la passione per il Bari e quindi parlo della regione Puglia, parlo del paese, se lo sto facendo è perché mi sono reso conto che c'è una sensibilità tale nei confronti della squadra e del calcio che rientra nei miei doveri occuparmi di questa vicenda. Io sono malizioso, non è che quella carta che hai rifiuto ieri l'avvertita un po' come una cosa da bollente, cioè come se il Bari abbia detto questi sono i conti, siccome avevi detto che avresti trovato, avresti in qualche modo stimolato gli imprenditori e compagnia bella, adesso hai il materiale per fargli vedere. Naturalmente però capirete che c'è anche una scritta su quel dossier, qualunque danno, qualunque dato che dovesse risultare difforme da quei risultati evidenziati nel presente lavoro non implicheranno una responsabilità dell'AS Bari, quindi voglio dire, ed è giusto anche che questa condizione sia posta, non è a me che devono mostrare i conti, li devono mostrare a coloro che sono interessati all'acquisto del Bari, che ci siano degli imprenditori interessati all'acquisto del Bari è certo, è un fatto assolutamente certo, che questi imprenditori abbiano timore o siano stati tra virgolette in qualche modo in difficoltà nel trattare direttamente con i proprietari dell'AS Bari, questo è un fatto. C'è un'altra amico in linea? Pronto? Pronto? Sì, pronto? Eccoci, ciao. Salve Enzo, ciao. Una domanda al sindaco, dice i problemi del Bari, ma lei non pensa ai problemi dei barisi? Eh, questa è la domanda invece all'altra faccia della medaglia. Esattamente quello che stavo dicendo, nel senso che io in realtà non dovrei occuparmi del Bari, sono costretto a farlo dall'opinione pubblica, dai matarrese, dai giornalisti, da tutti i soggetti che credetemi, ogni volta che io cammino per strada due persone mi chiedono un posto di lavoro, le altre otto vogliono sapere che cosa succede al Bari, persino delle donne, capita che una donna al volante mi dica mi raccomando Emiliano, pensa al Bari. Ora è evidente che io non mi occupo solo del Bari e che ho molto fastidio anche a stare qui in televisione a parlare di questa roba con un paese intero che ha tante difficoltà. Però mettetevi voi nella testa dei baresi e decidete se il sindaco deve o non deve, in un caso del genere, ascoltare la sua città e, per quello che è possibile ed è normale che io faccia, cercare di dare una mano anche in una vicenda che è apparentemente poco importante.